Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Con questo video andiamo a chiudere tutto il discorso del combattimento e danni nel D20 system. Negli scorsi video abbiamo visto come attaccare, come difendersi, come darsi bonus alla difesa e all'attacco. In questo video andiamo a vedere quella che è l'ultima linea di difesa dei personaggi contro i danni. Questa settimana andiamo a parlare di immunità e riduzione del danno. Alcune creature per loro natura non sono suscettibili a alcuni tipi di attacchi. Altre possono guadagnare questa immunità tramite incantesimi o abilità speciali. In entrambi i casi una creatura che è immune a un certo tipo di danno non può essere danneggiata dai danni che hanno quel descrittore. Il caso più comune sono gli elementali, creature composte da un singolo elemento dei quattro elementi naturali. Essendo composte da un singolo specifico elemento risultano immuni a qualsiasi danno che provenga da una fonte che abbia come descrittore quell'elemento. Ad esempio un elementale del fuoco non è soggetto e quindi è immune ai danni da fuoco. Dopotutto non puoi dare fuoco al fuoco. Nell'SRD 3.0 e 3.5 non esiste una specifica abilità per le immunità ma quasi sempre le immunità quando sono presenti sono o parte di un archetipo di un tipo e sottotipo che la creatura già ha oppure dipendono da una specifica caratteristica o comunque uno specifico valore del profilo di quella creatura. Ad esempio tutte le creature con sottotipo incorporeo non sono soggetti ai danni delle armi che non siano magiche. Essendo delle creature immateriali non possono essere danneggiate dagli oggetti materiali. al contrario tutte le creature che non hanno un valore di intelligenza indipendentemente da quale sia il loro tipo e sottotipo sono immuni a tutti gli attacchi che influenzano la mente che sia un incantesimo di charm, lo sguardo mesmerizzante di un vampiro o anche solo un tiro di intimidire fatto da un barbaro in ira. Non avendo una mente non hanno una personalità, non hanno nulla che possa essere controllato o spaventato. Non esiste un limite alle immunità che una creatura possa avere fin tanto che resta nei limiti delle abilità e degli archetipi che possono essergli concessi. Ad esempio un fantasma è un non morto incorporeo, di conseguenza non è vulnerabile alle armi che non siano magiche perché è una creatura incorporea e non è soggetto a effetti di morte, sonno, paralisi, veleno e tutte le altre immunità che hanno le normali creature non morte e questo li rende incredibilmente rognosi da fare fuori. In altri casi le creature non sono invulnerabili agli attacchi ma servono comunque attacchi particolarmente potenti per danneggiarle. Queste ricadono sotto quello che è la regola generale della riduzione del danno. Una creatura che ha riduzione del danno sottrae un certo quantitativo dai danni in ingresso che subisce. Nel profilo della creatura la riduzione del danno è riportata come il numero dei danni ridotti seguito da una sbarra dopo cui sono scritte le condizioni che permettono di ignorare questa riduzione. Se ad esempio una creatura ha riduzione del danno 10 sbarra argento, gli attacchi portati con armi d'argento ignorano la riduzione del danno e infliggono danni pieni. Gli altri infliggono 10 danni meno di quello che avrebbero dovuto dal risultato del tiro dei dadi. I modi per superare la riduzione del danno sono i più disparati. Per alcune creature servono materiali o armi particolari, altre hanno bisogno di condizioni molteplici contemporanee per poter avere la loro riduzione del danno superata. Alcune creature sono vulnerabili a particolari fonti del danno, altre a particolari tipi di armi. Alcune sono vulnerabili a più di un tipo di danno, altre solo se più di una condizione avviene contemporaneamente. Nel caso in cui non ci sia nulla che permette di superare la riduzione del danno, dopo la sbarra viene riportato semplicemente un trattino. Se non è però diversamente specificato, tutti i danni da energia, come acqua, elettrico, fuoco, superano automaticamente la riduzione del danno, sia che siano fonti energetiche magiche che mondane. Una creatura potrebbe avere contemporaneamente più riduzioni del danno diverse da più fonti diverse. In quel caso attualmente le riduzioni non si sommano tra i loro, ma viene usata solo la migliore a seconda dei casi. Ad esempio una creatura che abbia riduzione del danno 5 magia e 10 tagliente, che venisse colpita da un'arma non tagliente, che sia magica o meno indifferente, ridurrebbe il danno di 10. Se l'arma fosse tagliente ma non magica lo ridurrebbe di 5 e se fosse sia tagliente che magica non lo ridurrebbe per nulla. Per questo video è tutto. Possiamo dire ad avere oramai finito le basi del combattimento nel D20 System. La prossima settimana vedremo un uso particolarmente interessante della riduzione del danno. E per quelli che mi hanno scritto, si ritornano le animazioni, non vi preoccupate. Come sempre vorrei sapere da voi le vostre esperienze. Vi è mai successo di salvarvi miracolosamente grazie alla vostra riduzione del danno o di essere padellati malissimo dal Master perché avete totalmente dimenticato o sottovalutato le immunità del mostro che stavate andando ad affrontare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo al prossimo video.